Il racconto dell'Isola sconosciuta di José Saramago è un'opera letteraria straordinaria che ci trasporta in un viaggio filosofico e poetico alla scoperta di sogni, desideri e l'eterna ricerca di ciò che è sconosciuto. In questo romanzo, l'autore ci narra la storia di un uomo determinato a trovare un'isola sconosciuta, nonostante l'ostilità degli altri e le sfide apparentemente insormontabili. La trama si snoda con una prosa incantevole e riflessiva, portandoci a esplorare i confini della determinazione umana e la bellezza della perseveranza. Saramago ci sfida a riflettere sulle nostre stesse aspirazioni, sui nostri sogni e sulle difficoltà che affrontiamo nel perseguirli. Il romanzo ci invita a considerare quanto sia importante abbracciare l'ignoto, a rischiare e ad andare controcorrente per raggiungere ciò che desideriamo davvero nella vita. Il racconto dell'isola sconosciuta è una lettura che ci incanta con la sua profondità e il suo stile unico, invitandoci a esplorare i nostri desideri più profondi e a osare andare oltre ciò che è conosciuto e sicuro.